Ha commosso l'Italia la storia di mamma gatta che piangeva all'imbocco del condotto di aereazione dove una settimana fa sono finiti i suoi tre gattini di quasi due mesi. Grazie all'intervento del comune di Miglianico, dei volontari, delle associazioni animaliste, della protezione civile e dei vigili del fuoco sono stati tratti in salvo. Ora sono affidati insieme alla mamma al servizio veterinario di Lanciano, la LIDA, Lega Italiana dei Diritti degli Animali Sezione di Ortona, per bocca di Mauro Costantini, ringrazio un po' tutti. Il sindaco di Miglianico, Fabio Adezio, ci racconta la storia dei gattini che si sono intrufolati in un condotto di aereazione e precipitati in uno stabile sottostante. Tutto è bene, ciò che finisce bene. Vi aggiorno sulla questione dei gatti. I gatti sono stati recuperati, ora siamo alla mamma sono stati affidati al servizio sanitario per la profilassi veterinaria. Mercoledì scorso abbiamo scoperto di questi gatti finiti in questa fondazione, il recupero era molto complicato, quindi come prima operazione abbiamo monitorato H24 questi gattini attraverso una sonda e li abbiamo alimentati. I gattini stavano bene perché in un ambiente molto ampio, di diverse centinaia di metri quadrati, altro 3 metri, rispondevano bene agli stimoli, quindi ci siamo concentrati nel trovare la soluzione migliore per entrare dentro questa fondazione totalmente interrata, costruita in cielo intermato. Dopo una prima ipotesi particolarmente complessa e particolarmente invasiva, quindi entrare dall'esterno e tagliare questa fondazione dall'esterno, quindi insomma anche dei rischi sulla stabilità del fabbricato, abbiamo fatto la nostra protezione civile, ha fatto dei saggi per cercare di capire se ci fosse una soluzione alternativa. Per fortuna sabato siamo riusciti a rintracciare il progettista che circa 25 anni fa progettò quel fabbricato, che ci ha confermato le ipotesi venute fuori dai saggi e quindi per domenica mattina abbiamo programmato un intervento molto meno invasivo che andasse a forare porzioni non strutturali del fabbricato. Quindi abbiamo praticato questo primo foro e da questo primo foro siamo riusciti a tirar fuori due gattini. Il terzo gattino era un po' restivo a farsi tirare fuori, quindi in serata abbiamo chiamato i vigili del fuoco, che ringrazio, ringrazio il capo squadra di Intino, a tutta la sua squadra, persone eccellenti, che abbiamo allargato il buco e sono scese giù e hanno recuperato il terzo gattino. Un'intera comunità si è immobilitata, dice il primo cittadino di Miglianico, che vuole aggiungere altri ringraziamenti. Voglio ringraziare la nostra protezione civile, di Antonio Piccidi, perché si è offerto di riparare gratuitamente questo foro, lui ha un'impresa edile. Ovviamente ringrazio la polizia locale, il comandante Cesarone, la locale stazione Carabinieri, il comandante Perseo, il ristorante La Chiave Bianca, che in questa giornata si è preoccupato di portarci da mangiare e da bere. Le associazioni animaliste, che ci hanno dato una mano, una, l'EMPA, si è anche offerta di coprire i costi di ripristino, e quindi vi ringrazio per la famiglia. Ringrazio la famiglia, che anche sottoposta a una notevole pressione mediatica, ha convenuto con noi che quella è la soluzione migliore, quindi ha collaborato in prima persona.